L'amore degli sposi è l'immagine dell'amore di Cristo per la Chiesa. Papa Francesco disegna così il matrimonio cristiano, sacramento che dà vita ad una nuova comunità familiare. È un grande atto di fede e di amore, testimonia, afferma il Papa, il coraggio di credere alla bellezza dell'atto creatore di Dio e di vivere quell'amore che spinge ad andare sempre oltre, oltre se stessi e anche oltre la stessa famiglia. Francesco ricorda anche la dimensione missionaria del matrimonio, il farsi tramite della benedizione del Signore e al contempo l'arricchimento della Chiesa per la presenza degli sposi come pure l'impoverimento ogni volta che l'alleanza viene sfigurata. Chi si sposa è una risorsa essenziale per la Chiesa e per il mondo. Si tratta di uomini e donne coraggiosi, capaci di portare il tesoro del matrimonio, unione dell'amore di Cristo con la Chiesa, nei vasi di Greta, dell'umanità. La Chiesa stessa è pienamente coinvolta nella storia di ogni matrimonio cristiano. si edifica nelle sue riuscite e patisce nei suoi fallimenti. Ma dobbiamo interrogarci con serietà. Accettiamo fino in fondo noi stessi, come credenti e come pastori anche, questo legame indissolubile della storia di Cristo e della Chiesa con la storia del matrimonio e della famiglia umana. Siamo disposti a assumerci seriamente questa responsabilità, cioè che ogni matrimonio va sulla strada dell'amore che Cristo ha con la Chiesa. È grande questo! Grazie! Grazie! Grazie!